Ciao amici Valinvestor, oggi parliamo di una delle aziende che ha avuto tra i rendimenti più elevati da quando si è quotata e che l'azienda di oggi si è quotata nel 2004 e da allora ha realizzato oltre il 6.300% di rendimento ossia il 24.5% in media all'anno e questo rendimento è sicuramente meritato perché parliamo di un'azienda che ha cambiato il business del software parliamo di una delle aziende pioniere del modello di business chiamato SaaS cioè software as a service e sto parlando di Salesforce che dopo l'ultima trimestrale uscita pochi giorni fa ha visto il suo prezzo in borsa perdere molto e quindi nel video di oggi cercheremo di capire se Salesforce è ancora un'azienda di qualità e se a questi prezzi può avere senso come detto Salesforce ha svolto un ruolo fondamentale nella popolarizzazione e diffusione del modello SaaS grazie alla sua innovativa piattaforma CRM basata sul cloud quindi il software non è più su un CD-ROM da installare su un PC del cliente ma si trova sul cloud e viene usato in cloud senza che i clienti debbano installare niente sul computer e possono usare questo software in cambio di un abbonamento mensile o annuale i vantaggi di questo modello sono sia per l'azienda fornitrice del software sia per i clienti perché le aziende di software una volta realizzato il software hanno la possibilità di distribuirlo facilmente in tutto il mondo a costi unitari vicino allo zero perché non devono creare CD-ROM e poi spedirli ai vari rivenditori in tutto il mondo inoltre trasformano le entrate da una tantum a ricorrenti cioè non sono più costretti ad inventarsi un nuovo software o un aggiornamento rivoluzionario del software già venduto per convincere il cliente a fare l'update contando di campagne di marketing annesse per pubblicizzarlo le entrate in questo modo diventano ricorrenti come l'affitto di un appartamento e generalmente in questo modo l'azienda nel corso degli anni riesce a guadagnare anche di più e inoltre si è risolto in buona parte un problema importante che per decenni ha fatto perdere alle aziende di software un sacco di soldi e cioè la contraffazione quando io ero giovane tanta gente masterizzava i CD-ROM dei vari software e li vendeva per 5-10 euro illegalmente tipo Windows, Photoshop eccetera ed era non impossibile ma molto difficile per aziende come Microsoft e Adobe trovare questi software pirata sul mercato con il software in cloud questo problema è stato risolto quindi ci sono davvero tanti vantaggi per le software house infatti anche Adobe da quando è passata al modello SaaS ha avuto un'accelerazione importante delle vendite e anche per l'utente i vantaggi sono numerosi il fatto di non dover sborsare subito 1000 o 10.000 euro per avere il software ma pagare a rate tra virgolette, avere sempre il software aggiornato, avere la manutenzione automatica del software poterlo usare su più dispositivi e ovunque perché basta inserire nome account e password e poi c'è la scalabilità perché è possibile aumentare o diminuire facilmente la propria capacità di utilizzo in base alle proprie esigenze pagando quindi solo ciò che si utilizza effettivamente e cosa vende nello specifico Salesforce principalmente CRM come detto piattaforme per la gestione delle vendite cioè un sistema di software che aiuta le aziende a gestire le interazioni e le relazioni con i propri clienti attuali e potenziali è nata così Salesforce ed è attualmente la piattaforma di CRM più famosa e apprezzata al mondo poi nel corso del tempo ha integrato la sua offerta con altre tipologie di software e servizi sia tramite ricerca e sviluppo interno sia tramite acquisizione di altre aziende infatti Salesforce possiede anche il famoso software in cloud di comunicazione e collaborazione aziendale Slack poiché ha acquistato l'azienda nel 2021 e come potete vedere dai numeri la storia di Salesforce è una storia di successo perché le vendite sono aumentate nel corso degli anni in modo esponenziale pensate che solo negli ultimi 10 anni sono cresciute in media del 24% all'anno il net income dal 2019 si è moltiplicato quasi per 4 il free cash flow è cresciuto del 32% in media all'anno nell'ultimo decennio e l'azienda di recente si sta focalizzando molto di più sui margini con l'operating margin che è passato in un solo anno dal 6 al 17% ma qualcosa è andato storto nell'ultima trimestrale e il prezzo è sceso molto hanno mancato leggermente le aspettative sulle vendite e nella guidance sulla crescita futura delle vendite e dei margini anche se non sono state dei miss clamorosi però è probabile che nel prezzo dell'azione ci fossero aspettative davvero alte forse troppo e il prezzo ora si sta sgonfiando perché il mercato sta pian piano razionalizzando e parlando di prezzo questa azienda in pratica è allo stesso del 2020 un bel po' di anni fa e cosa ha causato questa lateralizzazione così importante è stato il rallentamento deciso della crescita Salesforce era abituata a crescere intorno al 25% all'anno ma negli ultimi due anni il tasso di crescita è crollato a meno della metà e soprattutto negli ultimi trimestri sembra che la crescita si sia stabilizzata ad un valore molto più basso che in passato sul 10% e di conseguenza i multipli di valutazione sono crollati come potete vedere il rapporto tra market cap e free cash flow previsto per il prossimo anno è crollato quasi a minimi storici ora a cosa è dovuto questo rallentamento così importante? molte tesi berici sostengono che sia un rallentamento definitivo nel senso che è dovuto alla saturazione del mercato all'aumento della concorrenza oggi infatti ci sono tante alternative a Salesforce e anche perché ormai la strategia di crescita attraverso le acquisizioni sembra non stia dando più i frutti del passato anche perché ora Salesforce è grossa deve comprare aziende più grosse ed è più difficile trovare buoni affari tra le grandi aziende e dalle parole del management sembra che Salesforce stia davvero entrando in una fase di maturità una fase in cui si dà maggiore importanza alla gestione dei costi al contenimento delle stock based compensation all'espansione dei margini del free cash flow e alla riduzione delle azioni ma io credo che Salesforce anche se rallenterà molto la sua crescita è difficile che vedrà un declino delle vendite perché il suo principale vantaggio competitivo è lo switching cost praticamente nel corso degli anni grazie anche alle varie integrazioni ed ecosistema di servizi è diventato proprio il sistema operativo delle aziende clienti e per queste aziende è diventato quasi impossibile uscire da Salesforce date tutte le integrazioni effettuate le automazioni in corso la mole di dati data a Salesforce e sono praticamente ingabbiate sono ingabbiate ma comunque Salesforce offre un ottimo prodotto quindi attraverso nuovi servizi piani di abbonamento più costosi eccetera penso che Salesforce continuerà a crescere però per i motivi elencati prima potrebbe crescere molto di meno io nel discounted cash flow ho provato a fare una simulazione stimando una crescita delle vendite del 7-8% per i prossimi 10 anni però l'azienda sta espandendo i margini ed ha dichiarato che è focalizzata a farlo sempre di più quindi attraverso l'ottimizzazione dei costi e dell'everage operativo penso che il free cash flow margin al medio del 21.6% degli ultimi 5 anni possa arrivare al 25% nei prossimi 5 anni e al 30% nei successivi 5% che non è impossibile se considerate che nell'ultimo esercizio sono già arrivati al 27% di free cash flow margin ed ipotizzando un tasso di sconto del 12% risulterebbe costosa come azienda con queste estime anche perché non ho considerato le stock based compensation nel free cash flow in questo calcolo che al momento sono importanti ma c'è da dire che lo stanno diventando sempre meno perché mentre il cash flow operativo sta aumentando parecchio le stock based compensation stanno diminuendo quindi penso che in futuro saranno sempre più trascurabili in definitiva secondo me salesforce è ancora un'azienda di qualità dotata di moat ma siccome sembra stia entrando in una fase di maturità e non sappiamo ovviamente quanto matura sarà questa fase mi piacerebbe prenderla ad un prezzo più basso per stare tranquillo se ci arriverà mai comunque ci tengo a ringraziare anche chi ha contribuito nel trade di salesforce sul gruppo discord con informazioni, analisi e punti di vista interessanti aiutandomi ad analizzare questa azienda e se non siete ancora nel gruppo discord fatelo subito se vi piace l'analisi fondamentale vi basterà supportarmi con un piccolo contributo su Patreon per avere l'accesso al circolo dei value investor link in descrizione e fatemi sapere la vostra su questa azienda un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide